Il nuovo incontro presso l'Aula Consiliare del Comune di Alife, al centro del dibattito del Ponte Margherita di Dragoni, chiuso al traffico da quasi nove mesi perché ritenuto pericolante con forti disagi per l'intero territorio che sta mettendo a dura prova gli imprenditori e gli agricoltori, oltre che i normali cittadini. Presente il Presidente del Comitato Proponte della Rossa, il Sindaco di Alife e Cirioli insieme a parte della sua amministrazione, alcuni sindaci e per la Regione il Consigliere Gennaro Oliveiro. Assente la provincia ben invitata, la quale avrebbe assicurato che entro il 4 novembre avverrà l'apertura delle buste per la giudicazione della gara, il Comitato ha anche annunciato azioni forti con il coinvolgimento del Prefetto se non ottiene dalla provincia il via libera alle prove di carico. Ai nostri microfoni il Sindaco di Alife, Salvatore Cirioli e poi il Consigliere regionale, Gennaro Oliveiro. Signora, a questo punto cosa decidete di fare? Allora, per quanto riguarda la mia amministrazione, io sosterrò fino alla fine il Comitato Proponte in tutte le sue iniziative, la provincia si ostina a non volere le prove di carico, noi le vogliamo perché pensiamo che il ponte non era da chiudere dall'inizio e andremo avanti tentando tutte le iniziative anche con qualche gesto eclatante. Ancora il Ponte Margherita oggetto di discussione questa sera, a che punto siamo? Beh, io ho ricevuto per molte sedute di Commissione Protezione Civile tutti gli amici di Alife, della gente del posto che giustamente sono passati ormai molti mesi dalla chiusura e non vedono una certezza nella riapertura. Per la verità la cittadinanza, il Comitato Proponte chiede una cosa normalissima e di questo si è dibattuto in Commissione Protezione Civile che alla luce del progetto presentato le prove di carico diventano necessarie per capire poi questi lavori oltre finiti, che capacità di sopportamento potrà avere questo ponte. Date che le due cose non sono incompatibili, si possono avviare le procedure per la gara e nel contempo fare le prove di carico per avere certezze. La gente vuole solo certezze. Credo che la Regione fa bene a stare vicino al Comitato, vicino al Sindaco di Alife, agli altri sindaci interessati alla riapertura immediata del ponte, perché è giusto che i cittadini fino alla fine riescano a capire perché si è chiuso un ponte e quali poi prospettive ci saranno. Una prova di carico è una cosa su cui pure gli stessi operatori economici della zona si sono dichiarati disponibili a fronteggiare economicamente. Quindi non c'è da parte della pubblica amministrazione nessuno sperpio di denaro pubblico, non si capisce perché ci si ostina a non voler fare le prove di carico. Grazie. Grazie a tutti.